Asla ha comunicato che la squadra può tornare ad allenarsi al centro sportivo del Poggio degli Ulivi, domani tutti i biancazzurri negativi al Covid svolgeranno le sedute di lavoro individuali. Per quel che riguarda invece il campionato, oggi in campo diverse partite della 34esima giornata, buone e cattive notizie per il Delfino impegnato come sapete nella lotta per non retrocedere, il Cosenza ha perso a Pisa, la Reggiana è andata a K.O. a Reggio Calabria, ma se il campionato finisse oggi non si disputerebbero i play-out. Questo perché nell'anticipo di ieri Lascoli ha battuto la spalla salendo a quota 37 punti a più 5 dal Cosenza che ne ha 32. Dunque se il torneo finisse oggi i marchigiani, quintultimi in classifica, sarebbero proprio salvi grazie al vantaggio dalla quartultima, il Cosenza a punto superiore ai 4 punti. Vi riepilogo la classifica della zona calda, Entella ultima con 22 punti, Pescara penultimo con 28, Reggiana 31 punti, Cosenza 32, Ascoli 37 punti.